Sono i giorni di Dante, questi per il Consiglio regionale che si è riunito in seduta solenne per celebrare il Sommo Poeta, 700 anni dalla morte. Non c'è però solo la seduta perché sono tantissime le iniziative previste in questi giorni, in questi mesi, anche innovative come la creazione di un avatar che traduce i volti in terzine. È un progetto dell'Università di Pisa. In questi giorni poi si sono riunite tutte le commissioni del Consiglio regionale per discutere gli atti che saranno poi affrontati già nelle sedute del 14 e 15 settembre. Il Presidente del Consiglio regionale e i capigruppo spiegano cosa sarà l'ordine del giorno in aula, ci sono leggi importanti che aspettano come quella sulle case popolari rinviate un mese fa e c'è anche la riforma dello statuto da valutare. Intanto in una fase particolare della pandemia tra vaccini e green pass si ripresenta il dramma delle morti sul lavoro, tragedie improvvise che suscitano il dolore e la rabbia dei consiglieri. Ma cosa si può fare per evitare che accadano? Le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante vivono il suo movimento ufficiale a Firenze, al Teatro della Pergola. Ma è solo una delle iniziative previste in questi cento giorni oltre a Firenze. Saranno ad Arezzo, Pisa, Montecatini Terme, Lucca Massa, Gavorrano, Castagneto Carducci, Monterroni Darbia, Poppi, Cantagallo, Grosseto. Dante fu un grande innovatore, uno dei più grandi del suo tempo e noi vogliamo celebrarlo nei prossimi cento giorni in maniera diffusa in tutta la Toscana tenendo insieme tradizione e innovazione. Una novità, una novità prima in Italia. Noi riusciremo attraverso un avatar di Dante pensato e realizzato all'Università degli Studi di Pisa che porteremo in diversi centri della Toscana a raccontare qual è la nostra terzina. Questo verrà fatto riconoscendo i nostri occhi, le nostre labbra e sarà un modo in cui ognuno di noi si porterà con sé una terzina di Dante. E poi alla fine di novembre a Grosseto e a Pisa uno spettacolo che parla di Dante attraverso la voce di Simone Cristicchi uno spettacolo profondo, bello, che racconta il passato, il presente e il futuro. E poi tante iniziative con tante ragazze e tanti ragazzi nei comuni più piccoli della nostra regione. La Toscana è fatta di molti campanili che denotano però in positivo passione, legame con il proprio territorio, senso di appartenenza. E allora Dante che ha attraversato, come ci insegna il Presidente Gianni, moltissimi comuni e ha citato e ricordato moltissimi territori toscani meritava questa declinazione che il Consiglio ha voluto offrire nel segno di due principi fondamentali. Un principio di innovazione, andando a cercare tra le varie proposte quelle più innovative nella celebrazione di Dante e anche all'inseguimento delle generazioni. Perché il valore del nostro patrimonio e della nostra identità culturale è quello di insegnare e trasmettere ai cittadini più giovani chi siamo e perché siamo così, che cosa c'è alle nostre spalle. Mazzeo apre la seduta solenne che per l'occasione appunto si svolge a teatro. Parla il Presidente della Regione Gianni, intervengono due esperti molto conosciuti e stimati Alberto Casadei, docente di letteratura italiana all'Università di Pisa e Derek Smith, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. Dove sta l'attualità di Dante e come celebrarlo nella maniera più incisiva anche per i più giovani? Dante è ora non più divisivo, come dimostra anche l'istituzione di una giornata annuale il 25 marzo in suo onore. È invece l'autore con cui generazioni diverse possono entrare in contatto per riflettere assieme su grandi temi che continuano a riguardarci dai comportamenti morali, alle notte politiche, dal bisogno di guardare a un bene comune, alle domande sul destino ultimo degli esseri umani. E così partendo da una selva oscura allegorica tutti noi possiamo ancora ritrovare il Dante personaggio al termine del suo poema, pronto all'ultima visione divina e a tornare nel mondo terreno. Quell'armonia auspicata proprio e soprattutto nel finale del poema sacro è davvero raggiunta e diventa addirittura universale così da portarci a seguire come farebbe una ruota che procede uniformemente in circolo non soltanto il nostro desiderio e la nostra volontà bensì quelli di tutti i viventi. All'alta fantasia qui manco possa ma già volgeva il mio desiderio e il velle sì come rota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. Le gallerie degli uffizi hanno intitolato a rivedere le stelle l'ipervisione disponibile sul sito web del museo che è andato online il primo gennaio scorso per salutare il nuovo anno dantesco. Infatti tra i tesori danteschi che abbiamo ereditato dai secoli passati gli 88 disegni eseguiti da Federico Zuccheri mentre risiedeva in Spagna tra il 1585 e 88 e fin dal settecento conservate agli uffizi sono da considerare tra i più straordinari. Come sapete insieme al fratello Tadeo Federico era stato uno dei progragonisti dell'arte italiana del tardo manierismo pittore amatissimo da Cosimo I dei Medici autore di affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze in vita diventò presto un personaggio autorevole e con ogni mezzo rivendicò per la sua figura dell'artista per la sua in particolare un ruolo e uno status intellettuale fino a quel momento astento riconosciuto se non addirittura negato. In Spagna Zuccheri non era andato in esilio come Dante ma si trovava pur lontano dalla sua terra e sofferente per chi ha freschi che Filippo II gli aveva ordinato per l'Escorial non avevano incontrato il favore del regale committente. È possibile che l'immersione nei versi delle righieri e le immagini a corredo che via via creava siano state per il pittore un rifugio e una forma di liberazione un modo per sentirsi connesso alla sua cultura d'origine. Il programma di queste iniziative è ampiamente condiviso dai consiglieri in particolare da quelli che fanno parte dell'ufficio di presidenza. Da vicepresidente del Consiglio regionale sono soddisfatto di aver dato il mio contributo anche con il creare dei collegamenti con il territorio perché abbiamo il dovere di sapere celebrare adeguatamente questo grande evento e con questa occasione dare anche sostanza a un'idea di Toscana diffusa di creare sempre più ecco delle liessons tra questo palazzo e il territorio e le amministrazioni comunali. Le risorse che sono state destinate dovevano essere investite in modo sobrio e dobbiamo comunque avere sempre la consapevolezza del periodo difficile che viviamo e con questo spirito che dobbiamo approcciarci a questo evento cercando finalmente di rivedere le stelle seguendo le parole del grande poeta. Per celebrare l'anniversario della morte di Dante c'è anche questo libro fotografico decisamente insolito ha coinvolto la popolazione di Pontassieve e dell'area fiorentina ma anche tanti toscani famosi si intitola Nel mezzo del cammin è stato realizzato dal corteo storico di Pontassieve è curato da Alessandro Sarti e Marisa Boschi ci sono 67 foto d'autore di Palmiro Stazzucci l'editore è la scriveria di Serena Pinzani Questo volume peraltro bellissimo ci permette in questo anniversario speciale i 700 anni e la morte di Dante di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli di uno dei libri più letti del mondo che è la Divina Commedia e gli dà il volto moderno delle persone di oggi quindi come dire lo riattualizza e lo immerge nel presente l'altro motivo per cui sono contenta è perché lo fa a scopo di bene perché il ricavato sappiamo va al Banco Alimentare di Pontassieve quindi è un'occasione che unisce diciamo l'aspetto culturale all'aspetto benefico in modo originale perché i protagonisti sono i cittadini di Pontassieve le belle facce i personaggi particolari ma tante personalità del mondo dello sport della cultura e delle istituzioni fiorentine anzi toscane lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro e la tavola vivente cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale è realizzata appunto dalle persone ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento ci siamo presi alcune licenze poetiche ma è un libro davvero originale e particolare tra i volti del libro c'è anche quello di Alessandro Artusi storico molto conosciuto sono contento di aver partecipato e sia nella presentazione e anche come Celestino Papa Celestino Quinto che mi ha messo negli ignavi ovviamente però sono grato a Alessandro Sarti perché mi ha fatto anche nel libro la compagnia Godo la compagnia di tanti amici quindi Alberto Plasca la dottoressa Ascidini la Shea insomma tanti amici Ipenco che mi ha fatto tanto piacere auguro al libro tanta fortuna anche perché il l'idea è quella di donare gli utili al comune di Pontassieve che li devolverà a quelli le famiglie colpite più duramente dal covid quindi un'iniziativa anche a buon fine a proposito di storia e tradizioni alla fine del mese di luglio nelle ultime sedute del Consiglio regionale è stata approvata una nuova legge che riguarda proprio le rievocazioni storiche ogni anno sarà stanziato mezzo milione di euro dalla regione soddisfattissima la Presidente della Commissione Cultura rende operativo lo stanziamento di 500 mila euro all'anno che era stato previsto nel bilancio ma prevette grandi novità dal punto di vista delle modalità di erogazione le associazioni e le istituzioni che realizzano rievocazioni storiche potranno coprogettare con gli enti locali gli eventi le cerimonie le iniziative secondo le modalità previste dalla legge sul terzo settore è la prima applicazione della riforma del terzo settore che abbiamo visto nelle scorsi mesi essere approvata e che adesso davvero trova realizzazione al momento del voto ci sono state quattro astenzioni ma in generale l'opposizione di centrodestra è soddisfatta qualche critica arriva però su alcuni aspetti e uno in particolare una buona legge sciupata dalla Commissione in regione perché anziché mettere come rappresentanti dell'organo di governo della legge che stanzia circa 500 mila euro l'anno per i prossimi tre anni i sindaci dei comuni capoluoghi che era una cosa diciamo oggettiva e neutra invece si demanda all'Anci di scegliere quali saranno i sindaci e quali saranno i comuni che governeranno questo appunto processo e questo procedimento è un modo arbitrario di intendere la politica e soprattutto speriamo che Anci sia in questo caso imparziale e non voglia invece fare una congrega di partito come molto spesso abbiamo visto fare a Danci come dicevamo si sono riunite nuovamente tutte le commissioni del Consiglio regionale quella che si occupa di sanità e politiche sociali ha proseguito le consultazioni verso gli stati generali della salute previsti in autunno c'è stata la possibilità di ascoltare tante associazioni del terzo settore del volontariato poi all'interno ci sono ancora gli ecchi del dibattito pubblico su vaccini e green pass se ne discuterà inevitabilmente anche in aula di particolare valore sono le modifiche discusse all'interno invece della commissione ambiente territorio cambieranno le regole per le ristrutturazioni edilizie con nuove possibilità di ampliamento dei volumi inoltre annuncia l'assessore Amoni sarà presentato un master plan per la qualità dell'acqua un'altra commissione si è occupata dei ristori nell'agricoltura per le aziende più penalizzate dalla diminuzione dei consumi a causa del covid l'assessore Saccardi ha fatto il punto delle misure realizzate la stessa commissione poi ha approvato il bilancio di Artea che ha una competenza molto ampia per le erogazioni dei fondi pubblici di cosa dovrà occuparsi adesso il consiglio regionale quali sono i primi argomenti da affrontare ecco cosa diceva nell'ultima seduta prima della pausa estiva il presidente Mazzeo si parlerà dell'ERP si parlerà dei fondi strutturali cosa chiederemo all'Europa come potremo permettere alla Toscana di ripartire più veloce si parlerà del piano dell'economia circolare perché una regione che vuole competere deve avere la capacità di saper smaltire di saper riciclare tutto quello che produce nel proprio territorio insomma sarà un settembre caldo in primo piano resta la legge sugli alloggi ERP quelli di edilizia popolare i propri emendamenti erano stati presentati dalla Lega l'esame non sarebbe stato possibile a fine luglio e così è tutto rinviato di qualche settimana nonostante un'intesa della maggioranza con una parte del centro-destra abbiamo fatto un lavoro importante in commissione ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante dove appunto la residenza la storicità della residenza è un criterio premiale così tenendo conto di chi vive di chi lavora in Toscana nelle nostre città da anni e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità se non di più di chi vive qui da anni ma qual era la contestazione principale della Lega provare una legge che sarebbe stata un disastro sul territorio per noi era sbagliato certo se il PD avesse subito ascoltato quello che noi gli chiedevamo e avesse preso in considerazione i nostri emendamenti che garantivano l'uguaglianza di accesso alle case popolari a tutti i cittadini che ne facevano richiesta probabilmente si sarebbe potuto votare e ci tengo a dire che noi eravamo pronti a star lì fino a ferragosto per arrivare a una soluzione immediata era stata la risposta del capogruppo del Partito Democratico Un rivio che provoca sicuramente un danno alle amministrazioni comunali che si vedono costrette a ritardare la pubblicazione dei bandi per costruire le gradatorie oppure a farli con il rischio di impugnative e soprattutto penalizza le famiglie che hanno i requisiti per poter fare la domanda e vedersi assegnare una casa popolare entrando in gradatoria e che invece sono costrette ad aspettare Ecco qual era stata la valutazione dell'altra forza di maggioranza Italia Viva È sempre opportuno approfondire una legge che è così importante che riguarda l'edilizia popolare la casa per molte persone è un sogno per la loro vita avere un'abitazione di disponibilità pubblica è importante è un diritto ma noi dobbiamo anche tutelare ovviamente il nostro patrimonio inserendo anche dei meccanismi di doveri da parte delle persone nella scorsa legislatura è stata fatta una legge a mio avviso ottima rispetto all'attribuzione degli alloggi popolari concertata discussa arrivata in fondo si tratta di migliorarla laddove ci sono dei rilievi della corte costituzionale e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è perché comunque comprende anche delle nostre richieste completiamo completiamo la panoramica dei gruppi con le opinioni di Galletti 5 Stelle e Stella Forza Italia la legge andava fatta perché si tratta di sanare oltre che una grave ingiustizia sociale anche qualcosa che la corte costituzionale ci avrebbe rimarcato quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più la sentenza della corte costituzionale non impugna la legge della regione toscana impugna un'altra legge noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani cioè a chi sta in questo paese da più di 10 anni abbiamo sempre fatto questa battaglia nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica 70 sono extracomunitari a maggior ragione in un momento difficile come questo dove c'è tutta una fascia grigia che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case e poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica due morti sul lavoro due tragedie avvenute a poche ore di distanza una dall'altra in distretti tra i più importanti e caratteristici della nostra regione a Livorno intanto in una nave in partenza dal porto nella quale ha perso la vita un marittimo colpito da uno dei cavi di ormeggio a Pierrasanta il giorno dopo un'altra vittima travolta da una lastra di marmo entrambe le persone decedute avevano 54 anni ne ha parlato il presidente Gianni a Montenero la sera dell'8 settembre al termine della celebrazione religiosa al santuario ne abbiamo parlato stamani con il ministro Orlando abbiamo voluto con il ministro del lavoro fare un po' il punto della situazione anche perché Livorno Massacarrara il marmo la tragedia nel porto devo dire oltre a momenti di tristezza noi diciamo che come istituzioni ci mettiamo tutte le risorse tutto l'impegno per poter prevenire realizziamo progetti che consentono anche agli imprenditori di dire siamo disposti come istituzione pubblica a mettere risorse perché non si sentano di dover come dire saltare qualche norma in sicurezza per risparmiare qualcosa noi dobbiamo prima di tutto sul lavoro porre la sicurezza al centro è elemento fondamentale per qualsiasi attività intanto il consiglio regionale ha deciso di convocare in commissione i dirigenti responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro delle aziende sanitarie e gli assessori che hanno questa delega a obiettivo conoscere la situazione e approntare le azioni necessarie in questi giorni ricorre anche un anniversario triste sono passati quattro anni dall'alluvione di Livorno l'ultima disastrosa e tragica nella nostra regione i consigliari della zona hanno partecipato alle diverse iniziative civili e religiose che si sono svolte ma anche qui diventa fondamentale la prevenzione molte opere di sicurezza idraulica in realtà sono state realizzate ma davvero il territorio non solo livornese di tutta la Toscana è sicuro a fronte di fenomeni sempre più estremi i standard di sicurezza vanno comunque elevati anche di questo parleremo venerdì prossimo 17 settembre sempre alle 21.15 dopo il nostro Tg della Sera e vi lasciamo con una bella immagine però questa di Gianni e Mazzeo che premiano la nazionale italiana di calcio per il successo agli europei lo hanno fatto nella Casa degli Azzurri Coverciano Grazie a tutti